vi farò vedere la seconda uscita ovvero l'unico scippotto, ovvero Sakura Aruna andiamo a vedere se andiamo con altre Sakura fatti vedere, visto? tutti dicono che sono inutili sono inutili, è proprio inutile allora, secondo me si può usare per giocare sicuramente perché prendiamo questo qui appunto, se vedete qui c'è la testa di pasta e la foto a stile, vedete se non è così se non so io come da attività la mia manga mi faccio una sparacolo benissimo allora qui c'è scritto con le scena di quei sogni nel frattempo quattro lupo abete godi dopo potevate copparvi lo so che poi vi veniva il diabete da qui c'è Sakura Sakura Dea Gossini quando è uscita si perché uscite i mati Witsiland e se non vi ricordate Witsiland si ok ora ve lo faccio vedere si però sono loro si ricorda delle Witsiland lei è stata la mia prima Witsiland si si sogna Witsiland qui tutta la mia sacra lo supererai riberai anche la tua gara potevice Witsiland 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 mi darà mi darà a che cosa c'è la Witsiland si io sono noi non ci dobbiamo lei non ci dobbiamo lei non è sempre o non è sempre non sono i magatti si sapevo che non ho parlato quindi si sapevo che sono bellissimi quindi si appunto lo sfogliamo appunto insieme allora Naruto Shippood scritto Sakura Runo c'è di sangue ecco c'è scritto no vanno lì io non ho parlizionare io non so come si pronuncia allora qui c'è immagino e di sangue no ah insomma figo ah i capelli questo va bene vedete 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 la pelle è completamente chiara qui qui sono scoperte ah qui si c'è braccia ma si sono questo c'è questi quanti neri infatti lo cerco molto bene perché mi aspetto un po' più che c'è comunque ha fatto bene seconda rossa bordeaux si fotta nell'equio addosso vita si fanno si fanno le scarpe pente bella con le mani dopo che stagiano tutti le scarpe pente cioè la mangio andiamo a combattere con la sabbia che c'è c'è scritto sakura e 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 ciò è molto il sostegno ora, come ho caro secondo me facciamo finta che sia un passo dalla luna lo ti sedico sei bella da paura facciamo finta che è stato solo no anche il mare ci guarda sembra la faccia possa allora i collezionisti secondo me vabbè riuscite a fare i collezionisti secondo me fatto bene come si è mangiato ti metti i centimetri così io non ho fiuso così Sì 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 Allora secondo me Secondo me Secondo me Sì 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 Sì